Un premio nazionale per gli edifici più sicuri è quello consegnato dall'associazione Sisma Safe nella sede di Confindustria Ancona, tra i premiati la Lega del Filodoro e lo stabilimento della pasta di Camerino. Cinque strutture simbolo dell'edilizia antisismica sono quelle che, con una cerimonia nella Sala Europa di Confindustria Ancona, hanno ricevuto il primo premio nazionale Sisma Safe. Il riconoscimento è stato ideato dall'omonima associazione, nata alcuni mesi fa grazie all'idea di quattro professioniste marchigiane che hanno pensato di lanciare un vero e proprio marchio di sicurezza antisismica. È nata tutta da un'esigenza del territorio in seguito a un nostro cliente che aveva la necessità di comunicare in tutta Italia la sicurezza della propria struttura dopo l'evento sismico dell'ultimo anno. Abbiamo inventato questo marchio che attestasse a colpo d'occhio la sicurezza sismica dell'edificio. Sicurezza significa che per noi un tecnico abilitato e iscritto a un albo con esperienza in campo strutturale abbia rilasciato tutta quella documentazione all'associazione e l'associazione, in seguito all'intervento della commissione tecnica interna all'associazione, valuta la rispondenza con quella che è la normativa. Gli edifici premiati sono la scuola Angeli di San Giuliano di Puglia, la casa municipale di Onna in provincia dell'Aquila, l'Eco Hotel Bonapace di Trento e i due edifici marchigiani, ovvero lo stabilimento della pasta di Camerino e il nuovo centro della Lega del Filodoro. Un'attenzione particolare nella realizzazione di questa nuova costruzione è stata posta proprio per la sicurezza e perché viviamo in una zona dove la sicurezza è fondamentale, ma per convincimenti proprio personali e dell'associazione su la massima attenzione per la responsabilità del personale e soprattutto dei ragazzi, delle persone che arrivano alla Lega del Filodoro. Sono bambini, giovani, adulti, sordoscechi, con pluriminorazione e credo che sia assolutamente doveroso garantire ambienti sicuri al 100%. I cinque edifici premiati, uno per ogni categoria, sono stati selezionati tra oltre 50 strutture, tra ricettive, scolastiche, culturali, sociali e aziendali in tutto il territorio nazionale. Diciamo sono delle realtà nuove di uso pubblico che nella loro costruzione hanno adottato dei criteri particolarmente selettivi dal punto di vista antisismico. Quindi abbiamo strutture in legno, strutture con dissipatori alla base e quindi abbiamo scelto per le varie categorie una struttura di rappresentanza. Questo premio è un premio, un incentivo a fare sempre di meglio e a cercare sempre di migliorarsi dal punto di vista sismico. Quindi abbiamo cercato di premiare strutture che a livello nazionale si sono distinte per le costruzioni antisismiche, per aver adottato metodi di realizzazione antisismici all'avanguardia.